3 miliardi in più nel Fondo Sanitario Nazionale, fondi distribuiti nelle regioni, 75 milioni per l'Abruzzo. Il sottosegretario di Stato con delega al CIPES, il senatore Alessandro Morelli e l'assessore regionale alla salute Nicoletta Veria hanno illustrato oggi alcuni aspetti relativi alla quota che spetta la regione Abruzzo del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, questo in base ai nuovi criteri in vigore da quest'anno. Il governo per il sottosegretario, dopo tanti anni di segno meno rispetto alla sanità, prende in mano con coraggio i conti e mette il segno più rispetto ai conti del bilancio nazionale nel settore sanitario. Unità positive perché ogni regione quest'anno avrà più soldi, perché il governo ha inteso aumentare il Fondo Sanitario Nazionale di 3 miliardi, finalmente il segno più di fronte al bilancio della sanità dopo tanti anni in Italia. La quota abruzzese si attesta intorno ai 75 milioni, che è un risultato molto positivo. Noi speriamo, anzi confidiamo, che la regione Abruzzo, esattamente come ha fatto in questi anni, riesca a migliorare il livello di efficienza della propria sanità e dare chiaramente maggiori servizi ai nostri concittadini abruzzesi. Senz'altro copriranno quelli che sono i costi dell'inflazione, i maggiori costi dell'energia, dei beni e servizi, che sono notevolmente aumentati dopo il periodo Covid. Noi ogni anno chiudiamo in un equilibrio di bilancio con grandi difficoltà, quindi ci auguriamo anche di arrivare a quest'anno a questo equilibrio. Senz'altro questi fondi sono importanti, però è da tenere presente che nel sistema sanitario i costi aumentano e noi abbiamo sempre coperto quello che è stato il disavanzo.